L'equilibrio della natura, la tecnologia dei ritrovati scientifici più avanzati. Con SimpliZen la natura si accorda con la scienza. Per offrire tutte le soluzioni per capelli sani e forti. Una delle cause della caduta dei capelli è la glicazione. Un processo che accelera l'invecchiamento mutaneo. La concentrazione del principio attivo agisce svolgendo una potente azione anti-aging e anti-infiammatoria. Il bulbo pilifero è nutrito, i capelli appaiono più vitali e il risultato è un evidente rallentamento della caduta. SimpliZen, l'innovazione scientifica. Al servizio della bellezza dei capelli.